buongiorno cari studenti buongiorno cari studenti vi sono mancato vi sono mancato avete gioito troppo presto avete gioito troppo presto ora sono tornato ora sono tornato e resterò sicuramente e resterò sicuramente il signor verdi è stato troppo morbido il signor verdi è stato troppo morbido è necessario essere severi è necessario essere severi altrimenti non imparerete nulla altrimenti non imparerete nulla non lo faccio per me ma per voi non lo faccio per me ma per voi il vostro futuro è importante per me il vostro futuro è importante per me non dimenticatelo non dimenticatelo allora dove eravamo rimasti allora dove eravamo rimasti o giusto volevo darvi i compiti o giusto volevo darvi i compiti dato che il signor verdi non vi ha insegnato nulla abbiamo molto da recuperare dato che il signor verdi non vi ha insegnato nulla abbiamo molto da recuperare studiate da pagina 50 a pagina 100 del libro studiate da pagina 50 a pagina 100 del libro ma maestro luigi sono 50 pagine non è un po troppo ma maestro luigi sono 50 pagine non è un po troppo c'è qualche problema lisa c'è qualche problema lisa dovremo studiare per tutto il fine settimana dovremo studiare per tutto il fine settimana giusto è un bene per giusto è un bene per voi quindi non lamentatevi quindi non lamentatevi maestro luigi credo che lei sia arrabbiato con noi maestro luigi credo che lei sia arrabbiato con noi e ora vuole vendicarsi e ora vuole vendicarsi marco devo prepararti per il futuro marco devo prepararti per il futuro pensi che sia facile pensi che sia facile fate i compiti a casa fate i compiti a casa altrimenti prenderete due altrimenti prenderete due ci vediamo lunedì ci vediamo lunedì nel fine settimana nel fine settimana lisa tesoro mio cosa stai facendo lisa tesoro mio cosa stai facendo lisa tesoro mio cosa stai facendo sto facendo i compiti mamma sto facendo i compiti mamma ma è sabato ma è sabato non vuoi giocare con i tuoi amici non ho tempo non ho tempo il signor conse ci ha dato 50 pagine da studiare per casa il signor conse ci ha dato 50 pagine da studiare per casa come scusa perché l'ha fatto come scusa perché l'ha fatto abbiamo molto da recuperare abbiamo molto da recuperare basta così basta così gli parlerò gli parlerò sì salve sono il maestro luigi sì salve sono il maestro luigi buongiorno maestro luigi buongiorno maestro luigi sono la signora petrucci la mamma di lisa sono la signora petrucci la mamma di lisa cosa posso fare per lei signora petrucci cosa posso fare per lei signora petrucci può spiegarmi perché i bambini hanno 50 pagine da studiare può spiegarmi perché i bambini hanno 50 pagine da studiare abbiamo perso molto tempo abbiamo perso molto tempo è colpa del signor Verdi non mia è colpa del signor Verdi non mia lo capisco ma 50 pagine sono troppe lo capisco ma 50 pagine sono troppe sono solo bambini sono solo bambini dovrebbero anche avere il tempo per giocare dovrebbero anche avere il tempo per giocare giocare ecco di cosa si tratta giocare ecco di cosa si tratta giocare non serve a nulla per il futuro dei bambini giocare non serve a nulla per il futuro dei bambini la diligenza e il duro lavoro li condurranno al loro obiettivo la diligenza e il duro lavoro li condurranno al loro obiettivo i bambini hanno bisogno di equilibrio i bambini hanno bisogno di equilibrio non si può studiare tutto il giorno non si può studiare tutto il giorno bisogna anche fare delle pause bisogna anche fare delle pause io da bambino non facevo pause ora sono un insegnante di successo il lavoro duro farà bene ai bambini il lavoro duro farà bene ai bambini non ha mai avuto tempo per giocare da bambino non ha mai avuto tempo per giocare da bambino no, non c'è bisogno di una cosa del genere no, non c'è bisogno di una cosa del genere ho preferito studiare ho preferito studiare ma non aveva amici? ma non aveva amici? forse è per questo che è così severo con i bambini forse è per questo che è così severo con i bambini sì, può essere sì, può essere ha ragione, signora Petrucci ha ragione, signora Petrucci Lisa può andare a giocare i compiti a casa non sono importanti Lisa può andare a giocare i compiti a casa non sono importanti grazie mille maestro Luigi grazie mille maestro Luigi Lisa, ho parlato con il maestro Luigi Lisa, ho parlato con il maestro Luigi non è necessario fare i compiti non è necessario fare i compiti puoi andare a giocare con Sara puoi andare a giocare con Sara grazie mamma, sei la migliore grazie mamma, sei la migliore quante pagine devono studiare i bambini per casa? a. 25 b. 50 c. 100 scrivi un commento quante pagine devono studiare i bambini per casa? a. 25 b. 50 c. 100 scrivi un commento a. 25 c. 100 c. 100 c. 100 c. 100